Tu sei anche una guida e quindi una battuta la dobbiamo fare anche sulla frequentazione della montagna. Secondo te è stata realmente condizionata anche dall'uso dei social? Ma guarda, l'anno scorso ho avuto una piccola discussione con un gruppo di ragazzi che volevano salire al bivaco reale. Salire al bivaco reale non è una cosa impossibile, però non è nemmeno una cosa banale. Ci sono dei passaggi che sono delicati, c'era una visibilità pessima, come spesso succede, nel senso che spesso la forcella dove c'è il bivaco è tappata dalle nuvole e gli ho detto ma avete una cartina? E la loro risposta è stata no, ma abbiamo scaricato un video di uno youtuber che è salito qualche settimana fa. Ora, io ai ragazzi ho cercato di spiegargli che non era proprio il massimo il salire con un video perché se il video è stato fatto in un giorno di visibilità perfetta, di meteo perfetto, senza minaccia del temporale è tutta un'altra cosa. La montagna non è difficile, è complessa e quindi questa complessità ha bisogno invece di tempo, ha bisogno di esperienza. Io lo dico spesso ai clienti, cioè arrivare fino a qui è una passeggiata, ma da qui, per tutto quello che sta alle mie spalle, per chilometri e chilometri quadrati, è la meraviglia della wilderness. Grazie a tutti.